Per favore, completa gli incarichi che ho preparato per te e poi raggiungimi dopo lezione. Vorrei insegnarti l'incantesimo descendo, utile per tirare gli oggetti a terra. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Hogwarts Legacy e con questo messaggio riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi continuano ad arrivare cose da fare. Quindi signori, facciamo una cosa, oggi mi sa che tocca sfoltire un po' di missioncine, anche un po' di compiti secondari perché iniziamo ad averne effettivamente un pochino troppi, ne stiamo accumulando un po' troppi. Allora, allora, il Professor Sharp ci ha detto, allora, una pozione focalizzante e qua tocca andarla a comprare. Ecco, i palloni, questi pure li possiamo far scoppiare. E la Mandragola l'avevamo messa, mi sa che l'avevamo messa a raccogliere le caccole di Troll. E questo pure lancia Depulso su un nemico in levitazione. Depulso però me lo sblocca con questo, quindi vabbè, dobbiamo andare a comprare la pozione. Dai, facciamo così, signori, almeno iniziamo un pochino a... Vabbè, questi sono i gettoni, porta il Cimelio. Ah, questo l'avevamo fatto, vabbè, anche se era un po' eccessivo per noi. A questo è una miglioria per la scopa. Va bene, allora, facciamo una cosa. Andiamo sulla mappa e partiamo con il campo di Quidditch. Ci possiamo... Eh no, teletrasportare no, anche se, scusa, eh, noi... Eh, c'era questo qua che è abbastanza vicino. Eh, sarà, forse, non so se vi possa risultare noioso a questa cosa, magari ditemelo nei commenti. Però anche queste, tra virgolette, stupidaggini del, che ne so, facciamo scoppi ai palloni e quant'altro. Eh, ditemelo perché io, onestamente, le andrei, le andrei a fare ugualmente, magari anche in, in episodi. Poi, insomma, ditemi anche voi. Qua mi sa che dobbiamo andare con la freccia... Ah no, la freccia ci dà le indicazioni. E quindi, qualora io volessi usare... La magia non la possiamo usare, quindi... In questo modo. E come facciamo della serie? Mi posso, tipo... No? Scusa, aspetta, fammi... Fammi vedere una cosa, che magari facciamo scoppiare direttamente con la scopa così. Eh, scusa, eh. Ho detto... Magari atterriamo e gli lanciamo un incantesimo devastante, ma in realtà... È più semplice del previsto, quindi... Facciamo così. Ok, ne manca... Vediamo dove sta, eccolo lì, uno. Almeno ci facciamo tutti questi compiti che, come detto, potrebbero risultare... Ma non so se noiosi o meno, questo me lo direte anche voi. Eh, però io, siccome ho intenzione di farli, eh... Tanto vale che... Facciamo così, allo stesso modo, magari ci trasportiamo... Qua, vediamo, perché anche Hogsmeade ci dovrebbero stare... Ha detto nei paraggi di Hogsmeade o proprio su Hogsmeade, non lo so. Però qualcuno l'avevamo visto in giro. Lo vediamo un attimino. Eh, qua la scopa non la possiamo usare, quindi immagino siano qui fuori. Lì, aspetta, c'è un... Ho visto passare... Eh, aspetta, c'è un attimo. Portacci, sua. No? Eh, che cos'è? Allora, dove li avevo visti i palloni? O qua in giro? Perché a vedere li avevo visti. O però mi devo ricordare vagamente dove stavano, se da questo lato. Allora, eh, da questo qui, sì, qualcosina potevamo comprare. Perché poi, comunque, anche qui, eh, ci sono degli... Degli acquisti da fare. Solo che... Andrei... Eccoli là, dove stanno. Eh, qua la posso usare la scopa, no? Vai, vai, giovanotto. E... Poi, qui, andiamo a prendere il potenziamento per la scopa. Poi ci andiamo a prendere il... Altre cose dovevamo fare. Anche qualcosa... La pozione, sì, la pozione conviene comprarla a quel punto, perché... Alla fine... O compriamo il vaso grande, aspettiamo che la facciamo, però magari una la compriamo e buonanotte. Allora, uno... Due... Tre... Quattro... E cinque. Eh, vedi, qua poi abbiamo trovato un altro accampamento. Sembra un posticino grazioso. Quindi, 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 anche qua ci sono altre missioni da fare. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Guarda, qua ci torniamo magari tra pochissimo. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Tra pochissimo poi ci torniamo. E... Andiamo di nuovo, come detto, ad Hogsmeade. E andiamo a fare queste altre commissioni che abbiamo. Poi il lago magari con la... A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Eh, ma Hogsmeade lascia fare che è un bel posticino. O no? Ci sta, ci sta. Bene, bene, bene. Quindi da qui possiamo andare... Ehm... No, qua in realtà non c'era niente di particolare. Ah, qua c'è anche la missione principale che però è, tra virgolette, bloccata. Quindi direi di andare... Qua. Così compriamo il potenziamento e poi andiamo anche al... All'altro baracchino a prenderci il coso. Io comunque mi... Ah, là pure ci stanno gli altri palloni. E a quel punto se quei palloni... Non possiamo usarla la scopa. Perché se no ci andavo adesso sicuramente... Ci sarà un'altra missions dove... Dobbiamo fare esplodere quelli che magari se... Se lo facciamo prima... Vediamo. Qua siamo fuori da Opsmith, vai. Eh no, signori, io mo' a sto punto quando ci stiamo. Che fanno? Li fai sparare? Va fatto. Eh, vedi, poi c'era anche la descrizione di un qualcosa. C'era un venditore. Qua in realtà mi ci ero fermato prima. Non so, forse non in episodi. Quando mi sono fatto quella passeggiata... Randomica per andare a... Sbloccare qualcosina. Quindi, quindi, quindi... No, però no, non mi ricordo questo. No, 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 è vero. Qua non c'era arrivato. Salve. Ma questo... Ma che se c'è qualcosa che ti serve? Sempre lo stesso. No, però posso vendermi un po' di cose. Le dispiacerà, no? Tanto c'è una manicata di roba inutile. Scusate, mi sta venire un dubbio. No, non vorrei che questi, magari, che non sono specializzati in sta roba... Ci danno meno soldi... 90, 90... Ah, no. Semplicemente valgono una merda le cose che abbiamo. Oh, a uno gli viene il dubbio. Magari questo non è... Non è pratico, nel senso... Non è... Non è del mestiere. E quindi ce le paga poco. Invece no, fanno... Semplicemente cagare le cose che abbiamo. Onesto, onesto. Vabbè, alla fine c'è da dire che trovando parecchie cose... I soldi... Insomma, sì, si fanno abbastanza agevolmente. Quindi, tutto sommato, ci può stare. E... Poi, poi, poi... Qui... Non so se qua sotto, magari, c'è... Reveglio! Sì. Che fa? Non ne approfitto. Biglietteria della stazione di Hogsmeade. La stazione fu inaugurata all'inizio dell'Ottocento, quando il ministro della magia, Ottalin Gamble, acquistò una locomotiva a vapore per trasportare gli studenti a Hogwarts. L'edificio apparve a Hogsmeade, notte e tempo, subito dopo l'arrivo del treno. L'operazione richiese un gran numero di incantesimi, di memoria sui lavoratori, babbani e il più grande incantesimo di occultamento di massa mai eseguito in Gran Bretagna. Interessante, interessante. Allora... Madonna, si è buttato... Pensavo stesse mettendo la scopa. Siccome la valva ne abbiamo poca, cerchiamo di fare quelli che riusciamo a... Sì, questo si può fare. In linea teorica, questi dovremmo scassarli, quindi... Non so se a tempo... Spero di no. Ammazza quanti ce ne stanno. No, allora, questi qua, no, di solito non sono a tempo, anche perché di solito te ne mette una marea. Quell'altro, l'altra volta ce l'ha fatto a tempo e... C'è voluto un po'. Eh, mo' per sbloccare altre cinque ne devo fare. Non sono poche, però. Come hai detto, ce lo facciamo in compagnia, signori, dai, che alla fine mi avete detto che pure le esplorate e così vi garbano. Certo, queste sono un po' eccessive. Però, l'idea che mi sto facendo è che qui sicuramente uscirà una serie di quelle belle massicce della serie. Episodi, episodi, episodi. Scusa, mo' mi avevi fatto vedere che c'era... Dove sta? Ah, qua, ok. Vai, blocca. Eh, se non fa così non te lo fa vedere. Cioccorane, probabilmente dimenticati da uno studente di Hogwarts in visita a Hogsmeade. Questi dolcetti incantati balzano in giro come vere rane. Ciascuno di essi è abbinato a una figura collezionabile, raffigurante una famosa strega o un noto mago. Ok, anche queste. Ah, no, questo è quello della... Aspetta un attimo. Eh, no, non così ho sbagliato. Aspetta, ma lontano un attimo così me... Eh, l'ho presa la sprovvista. Ok, comunque. Un po' di monete le abbiamo prese. Vediamo qua se c'è... Dell'altro. Siamo nella periferia di Hogsmeade. Più o meno, credo di sì. Allora, noi abbiamo segnato... Ah, no, non possiamo... Scusa, che cazzo abbiamo segnato? Perché mi fa fa... No, questa me la devi disattivare. Io devo... Allora, visto che stiamo qua, andiamo... Ovviamente ciò che recita Tomy è pergamene? No, non particolarmente. Direi di andare qui. E... Comprare il potenziamento per la scopa. Poi vediamo se ci dà anche qualche altra mission per prossimi potenziamenti. Felice di rivederti. Salve, caro. Posso darti il potenziamento per la scopa a un prezzo speciale. Apprezzo molto il tuo aiuto. Accelerazione e velocità della scopa, vai. Sarai entusiasta di quella scopa. Te lo garantisco. Va bene, va bene, va bene, va bene. E... Lo devo attivare o sta già pagato? Grazie per la tua visita. Sai, mezza Hogsmeade è già passata al negozio per chiedermi del potenziamento per la scopa. Eh, le royali di me. Senza i dati che mi hai fornito, il lavoro avrebbe richiesto il doppio del tempo. Quindi, grazie di nuovo. Potrebbe sembrare ambizioso, ma ho già iniziato a lavorare a un altro potenziamento. Più difficile da perfezionare stavolta. Mi chiedevo, ti andrebbe di collaborare di nuovo? C'è un altro tracciato vicino ad Irondale, in cui la signorina Reis ha già stabilito il suo record. Se potessi collaudare lì questo potenziamento, mi sarebbe di grande aiuto per sviluppare il prossimo. Dimmi che ci penserai? Eh, certo che fai non lo fai. Però vediamo se ci dice del percorso. È a due passi da qui, a sud di Hogsmeade. Splendida vista sulle montagne. Il tracciato è progettato per mettere alla prova la resistenza. Alcuni dei tuoi compagni di classe hanno detto di essere diretti lì. Ansiosi di vedere cos'è in serbo Imelda per loro? Il che mi stupisce, considerando che molti hanno espresso riluttanza all'idea di gareggiare contro di lei. Spero che non ti scoraggi e che vorrai comunque fare un tentativo. Almeno pensaci. Guarda, non c'è bisogno di pensarci. Scusa, eh. Se posso, la aiuterò volentieri. Grazie. I recenti successi non sono che l'inizio. Posso fare molto di più per migliorare l'esperienza di volo. Bravo, bravo. Tu impegnati sempre. Scusa, riferirmi appena puoi e saremo pronti per le gare. Ok. Allora, allora, allora. Sì, tornando a noi però, fatemi vedere un attimo. Eh, sbaglio sempre ad entrare qua che ci vuole più tempo per arrivare nella zona dell'equipaggiamento che dobbiamo sfogliare le cose. Ah no, però già ce l'ha messo il potenziamento alla scopa, hai visto? Per potenziare la scopa, adesso, attrezzatore, sposti, ok. Perfetto, perfetto. Ora, vado a comprare un... Sì, la pozione. Poi, la missione che abbiamo qui ai tre manici di scopa magari la facciamo più avanti. Mentre, per quanto riguarda, allora, tutte le varie missioni abbiamo... Pozione focalizzante. Che altro devo comprare qua? Qua devo tornare dalla signora. Usa, eh, ottieni, usa, ma andrà, ottieni. Forse vale anche comprandola, però io l'avevo... La stavo crescendo. Depulso, e va bene. Eh, ma vabbè, più o meno questi ci siamo. Poi magari facciamo questo qua. Va bene. Allora, andiamo a comprare la puzioncina. In modo tale da... Da avere la pozione focalizzante già in saccoccia. Certo, ci costerà un po', però... Purtroppo non ho. Poi il vaso lo compriamo più avanti. Qua cosa abbiamo? Ricetta la pozione dell'invisibilità... Pozione del tuono. Ah, ok. Beh, costa un po' troppo. A me servirebbe in realtà direttamente la pozione focalizzante. 500. Eh, vabbè, tocca comprarla. Saggia decisione. Grazie. Eh, insomma. Eh, guarda, faccio che mi compro pure queste. So che le possiamo fare pure noi, ma onestamente è meglio che ci attrezziamo in questo modo. Va bene. E soldi già non ne abbiamo più. Già siamo poveri in un modo clamoroso. Dopodiché, imelda, imelda, imelda. Mappa generale. Eh, a sud, ma meno male che ha detto che sta qua vicino. Qua vicino sto baio di palpebre. Ma qua è quello di... Sì. Beh, vicino direi proprio di no. Prova di merlino. Foglie di malva. Allora, facciamo una cosa. Ci segniamo questa anche, ma ci trasferiamo qua. Per quanto... Per quanto... Vabbè, sì, dai, facciamo questo. Quello lo facciamo al ritorno. Perché noi dobbiamo consegnare anche la cosa del ragno a quel tipo. Visto che l'abbiamo fatta la missione, però... A questo punto facciamo in questo modo. Foglie di malva non ne abbiamo tantissime, credo. Adesso ricontrolliamo un pochino così magari... Perché c'è questa qua, che però... No, per capire di che tipo... Penso che sia da portare quella pallotta, che però ancora... Non abbiamo grandi capacità di trasporto, quindi... Allora, intanto mi ciullo un po' di cose qui in giro. Il cappellino. Vai, vai, che ce la fai. Però, che agilità, eh, Alfonso. Ce la fa qua, no? Sicuramente... In modo più... Indolore. Ok. Metti la scopa e andiamo. Questa la facciamo, come detto, successivamente, dai. Andiamo all'obiettivo che ci siamo segnati. Poi, se troviamo... Questa qua dentro, altre cose in giro. Ah, e questi suoi ricci, quelli che mi aveva detto il tipo. E... Ma deve fare così? No. Ma ce devo arrivà... Per carità facciamo così Non ci arriviamo però Eh perché ci ha detto che questi ci potenziano le magie Ecco quello che avevamo visto l'altra volta Che mi aveva detto che in realtà non Quindi qua ha fatto no? Si Ci sarebbe Grotta qui sotto Qui qua Centrino in pizzo La gente del luogo dice che questo centrino Sia stato lasciato qui come tributo Un'amata elfa domestica che sognava Un giorno di poterlo indossare Però dalla mappa me li potrebbe togliere Quelli che abbiamo già fatto Sarebbe discretamente comodo Allora lì ci sono anche delle farfalle E qui ci sono quelli Da scassare Aspetta che qua se riusciamo Magari Ciao cagnoloni State tranquilli Tranquilli Io se vuole farfalle Voi fate il vostro Ah vedi già sta vicino Quindi apposto Ok in questo forziere Ah una tavola Interessante Poi Scopa Ah vedi che ce n'è un altro Ma questo stava randomico Pare di sì Eh vabbè signori qua Allora stiamo Veramente freschi Ora 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 Un attimo che avevo visto Eccoli là I palloni Perché fanno gli spondi i palloni Fanno scassati anche questi Fanno scassati No c'è Ma veramente c'è un'infinità di roba da fare Non che mi dispiaccia Assolutamente non che mi dispiaccia Ehm Allora abbiamo qua Un attimo perché Cosa hai in serbo per me questa volta? Ah no questi mi sa che sono quelli che dobbiamo La fortuna ti ha girato le spazze Eh no aspetta giovanotto Perché io comunque un attimo Dalla missione Uso una pozione focalizzante Ok quindi la dobbiamo usare E a questo punto Andiamo C'è bloccato Il protagonista Eccellente Protego Guarda qua Angelo custode In ora 3 Qualcuno ha seguito Tra il rego Smettila Eh però Sottostico Qua non è che Lo eliminiamo con tutta questa facilità Che uno potrebbe immaginare Quell'altro Quello cazzo è andato a finire Reveglio Anche un po' di così Eccola là Vieni Vabbè l'aspettiamo Un troll sarebbe più furbo Lo sai Un troll sarebbe più furbo lo sai Un troll sarebbe più furbo lo sai Cassa no Spero di sì Perfetto Perfetto E almeno sappiamo come risolvere il problema Reparo Reveglio Dove sta La faccio da qua Ok Senza dover dare fuoco a sti cosi Perché se no Ecco un'altra Là c'è qualche bestia Ok Perfetto Eppure questa è fatta Signori questo mondo Sarà pian pianino Casa nostra Spippoleremo ogni cosa possibile Immaginabile Per la gioia di Di chi vuole eventualmente Una serie discretamente lunga Perché poi Spippoleremo ogni cosa possibile Proteggo Stupecito Sei il piccolo mastardo Che ha salvato la trella Stupecito Questo è molto grande Conflitto Stupecito Hai osato privarmi di una trella Stupecito Allora stai zitto Come? Cosa hai fatto? Proteggo Stupecito Quanti siete? Non mi piace Madonna Porco due Con quali badilate Certo Certe volte escono delle Botte dalla distanza Quindi differenti Eh Soddisfazioni Ok Collezione giornata Paralisi Sì poi alcune cose Credo che le possano Eh purtroppo io questi Non li posso manco liberare Porco due Vabbè Comunque Tornando a noi Rimettiamoci la scopa E vediamo in tutto ciò Alla fine dove siamo andati E che cosa abbiamo fatto E Ok Quindi converrebbe andare qua E poi all'altra Sì Nel mentre Sblocchiamo cose Facciamo Sì Naturalmente Qualcosina Stiamo lasciando indietro Eh qualche grotta Pure prima Ho visto un'altra grotta Però Insomma Capirete che Qua cerchiamo di fare tutto Però Con Anche con una certa Parsimonia Alle tempistiche Nel senso che Ma cazzo si entra qua Scusa Ah Buscatissima Come dico sempre Viaggiare Apre la mente Io sì Però Che cosa c'è Che non va Si tratta dei goblin di Runrock Sono creature terribili Mi hanno teso un'imboscata Nessuno è al sicuro Avrei bisogno di qualcosa Per proteggermi da loro Qualora li rincontrassi Della pozione Andrebbe benissimo Non credo che ce l'ho Eh no Non ne ho Anche se dobbiamo essere Più cattivi Lo so Oppure in uno dei borghi E poi finire per essere Rapinato dagli Ashwinder Anche no Grazie Se non mi aiuti tu Allora sfiderò la sorte Eh purtroppo Noi non andiamo In giro attrezzatissimi Eh te stai a casa Un'amicizia Sia chiaro Allora Eh Altro Teletrasporto Ma magari no Quelli ce li lasciamo così Così in modo tale Che ci andiamo Un'altra Qua però me l'ha lasciato Questa Una piccola area Colma di magia antica Può essere che non abbiamo finito Eh può essere sì Che non abbiamo finito Ma non credo finiremo mai A questo punto Vabbè questo è sempre lo stesso Che Gigione è già qua e là Se l'abbiamo raccattati Saliamo 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 Eh qualche ralentamento Nella distanza Vedete il Il mulino Però ecco Questa distanza Già si è Rimesso in sé Il signor Wix Non mentiva Sulla vista sulle montagne Guarda chi c'è Il secondo miglior Serpeverde Reveglio Ma perché continuo a fare La spiritosa Quando già l'abbiamo strasciata Tipo di un minuto Nella prima prova Vabbè comunque Ciao Imelda Allora Un'altra prova? Certo che è un'altra prova E farai bene a partecipare Che c'è? Sei finalmente riuscita Ad allontanare tutti gli altri? Oh Di sfidanti ne ho a bizzeffe Il mio problema È che non sono molto bravi Non basta desiderare Di battere un record Per riuscirci E ho bisogno Di avversari forti Per tenermi in forma Vuoi tentare Di battere Il mio record Di volo O no? No vabbè senza Finalmente Una sfida decente Senza gigioneggiare Troppo signori Proviamo Proviamo Abbiamo anche modificato La Allora Due minuti e ventisei Spingi Spingi Ma quello che è Tipo il fantasma Il record Può essere Ci sto facendo la mano Occhio occhio Non perdiamo Di vista Gli obiettivi No Mannaggia Non sto abbandonando la pista Mi sono piantato solamente Non è colpa mia È stato un problema È stato un problema Tecnico-tattico Spingi Spingi Allora Sappiamo che è migliorabile Allora Già il record Che già L'abbiamo Sbagliato male Occhio Alla visuale Ottimo Vai 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 Magari è un buon modo Anche per Esplorare Scoprire Cose E vai E qua mi sa che è più Tirata La gara Non lo so Per rispetto ai mega Record Eventualmente Il primo È stato molto più Ampio Qua mi sa che arriviamo Un po' più Precisi Che 26 Ok Vediamo Anche la classifica generale Eventualmente Abbiamo perso 3-4 secondi La piantandoci E va bene Sei migliorato A quanto pare E devo ammettere È stata una gara fantastica Chissà Forse dopo tutto C'è un fondo di verità Nelle voci su di te Mettiamola così Qui Se hai qualcosa di Diverso dagli altri Ti conviene cercare Di non farti notare Mi pare tu Stia parlando Per esperienza diretta È così E comunque Non sei andato Malissimo Lo ammetto Tuttavia Non avrai La stessa fortuna Sul percorso Della costa Meridionale Eh sì Guarda Hai detto Che la tua reputazione Ha infastidito Certa gente Chi? Se proprio Vuoi saperlo Ho suscitato L'invidia Di alcuni membri Della nostra casa Al primo anno Io e Nerida Roberts Passavamo Ore e ore Sulla scopa Giurammo Che avremmo volato Ogni giorno Mentre la mia abilità Aumentava E rapidamente Aggiungerei Nerida Cominciò A non avere Più tempo Per gli allenamenti Ho provato A darle dei consigli Ma lei Non aveva Il mio talento Innato E per questo Mi invidiava Poveretta Adesso passa Le giornate In riva al lago Sessionata Dai maridi Non sa neanche Nuotare Mi rifiuto Di mortificare I miei talenti Per non ferire I sentimenti Altrui Comunque Devo andare Ad approntare Il prossimo percorso Ci vediamo dopo Se te la senti Lo vedremo presto Alla prossima Mi sorprendi Mi aspettavo Che volessi riposare Sugli allori Te preoccupa Ci vediamo alla prova Della costa meridionale Se te la senti Aridagliela Allora andiamo Andiamo a vedere La classifica generale Eeeh Sette secondi Va bene Va bene Comunque 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 Tornando Sì Poi andremo Anche dal Signor Wix Al momento Qui però Abbiamo C'è un'altra Missioncina Secondaria Qui sotto A Irondale Farco due Però Vabbè Dobbiamo tornare Anche in La cittadina Davanti a Fox Allora Spilla con pietre preziose Questa spilla Di meravigliosa fattura Raffigura un uccello Magico Di Che tipo Non è chiaro Ma alcuni ritengono Che rappresenti Uno degli uccelli Della Druida Irlandese Di epoca medievale Cliodna Noti per far addormentare I malati Con il loro canto Addormentare i malati Con il loro canto In che senso Cioè li stendono Proprio definitivamente O O anche meno Allora Questo lo possiamo fare Questo lo possiamo fare Sempre se abbiamo ancora Della malva Perché mi sa Che ne abbiamo usato In quantità industriale Che sia Una prova di merlino Vai vai merlino Non ce n'è per nessuno Intanto Piamo quelli Possiamo fare uno dietro L'altro Tutto insieme Con un colpo Là non ci arriviamo Mi sa No E vabbè Avviciniamoci un po' Lì sotto Ammazza Con quale distanza Arrivo Arrivo E sapim Sapam E sapapam E sapapam Queste prove di merlino Non avranno la meglio Su di me Beh ci proviamo Non fare Brutte figure Eventualmente Sblocchiamo il Sblocchiamo il Teletrasporto Poi andiamo a vedere La missioncina qua E poi Anzi Ci andiamo subito Qua dal Dal mercantino Stanno tutti dentro le case Stanno tutti dentro le case Sti cose Senti un po' Piacere di conoscerla Ah salve Sono Patrick Haggerty E questo è il mio negozio Come posso aiutarti Vorrei farle alcune domande Sul suo negozio Se possibile Certamente Non c'è problema Che vuoi sapere Così chiediamo cose Che tipo di prodotti hai in vendita Vendo ogni tipo di prodotto animale È una cosa che mi ha sempre interessato E che vende bene Così ho pensato di farne una professione Onesto Da quant'è che vive nel borgo di Irondale? Da quando sono nato Io e mia sorella Siamo conosciuti qui Io sono rimasto Lei Aveva altri piani Ho sentito dire che c'è una miniera dei Goblin qui vicino L'ha mai vista? Ci sono passato vicino Ma non sono mai entrato Dentro potrebbero esserci prodotti di pregio Ma il rischio è troppo grande È meglio non immischiarsi con i seguaci di Runrock Che cosa c'è in vendita? Con cosa posso aiutarti oggi? Eh vende cose molto particolari Molto costose anche Allora questo dovremmo metterlo Questo Andiamo 53 Questo quant'è? E dai eh Andiamo Andiamo A posto Mettiamoci il cappellino Eh Anzi prima Voglio vedere un attimo nell'inventario Anche quante foglie di malva Ci sono rimaste Allora Manufatto che frutto è ok Quello poi vediamo come usarlo Abbiamo finite le foglie di malva Mmm Peccato Peccato Quindi Le cose di Merlino Devono aspettare Ehm No il cappellino L'avevamo trovato Vabbè Levalo sempre dal Dall'estetica Anche se questo ci starebbe pure bene C'è da dire Però Va bene Poi ogni tanto Magari faremo Un vestiario Tematico Ci potrebbe stare Ora Qui c'è la cosa Dei goblin No? Qui sotto Da qualche parte Credo E Qui c'è questo Che ci dà la missione Quindi Questo Questa Quanto adoro I rompicapi Mi scusi Signora Ha detto qualcosa? Sì Indubbiamente Stavo di nuovo Parlando da sola Da quando mio marito Non c'è più Mi ritrovo spesso A conversare Con me stessa Eh Onesta Madame Altea Tweedle Piacere di conoscerti Piacere di conoscerla Madame Tweedle Sai C'è una cosa Che potrebbe interessarti Voi giovani Amate Questo genere Di cose Mio marito Era solito Arrovellarsi Sulla misteriosa Statua Sul limitare Del borgo Diceva fosse Un antico Rompicapo Riguardante Dei vasi Stamattina Ero particolarmente In forze E ho allungato La mia passeggiata Mattutina Ok Forse potresti dare Un'occhiata Anche tu Mi piacerebbe Sapere Se ci sono Dettagli Che noti E Dov'è la statua Per sapere Posso trovare Non è lontana Da Irondale Scendendo Verso la riva In prossimità Di alcune Antiche rovine Se la vedrò Darò Un'occhiata Alla gioventù Spero davvero Che riuscirai A risolvere Il rompicapo Se non per me Almeno per Greville Che ormai è morto Quindi insomma Tutto sommato Ehm Manovre Evasive Attenzione Ma come Devo investigare Sulla statua Che ha citato Madame Tweedle Un attimo Perché nel mentre Qua ci stanno I palloni E che fa Li lasci Allora ha detto A sud Rovine Verso il fiume Allora A sud È questo Dovete Le rovine E quant'altro Anche se Credo Me l'abbia Me la segnate Su quelle là No Penso di sì Allora Aspetta Perché qua C'è anche Un fulcro Di magia Antica Ma qua qua O più sopra Qua qua Yes Allora Pure l'altra grotta L'abbiamo lasciata Queste rocce Hanno visto giorni migliori Ah vedi Ne segna tre Ecco 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 perché Allora 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 Uno sta lì E va bene Questo lo apriamo Aperto No Allora Uno ho visto Che andava Da sto lato Naturalmente Me lo so perso Quello lì Vabbè Lo vediamo È abbastanza Palese Non dobbiamo Entrare Voglio solo Raccogliere un po' Di roba Un altro Stato Ah no Però Vedi Rimane il Raggio Verso l'alto Quindi E poi capiamo Se lo toglio Una volta Presi Si li toglio E allora Gli altri Non li abbiamo presi Tutti Me ne manca Un altro Vabbè Allora Questo Eh Questo Non so Però Che Non possiamo Cioè Possiamo Risolverlo Perché non ho L'incantesimo Per Per sta cosa Quindi 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 Dicevamo Stavamo andando Verso la statua Visto che ci siamo Come detto Facciamo anche questa La mappa poi è Veramente immensa Queste sono le rovine Qualcosa Inerente ai vasi Aveva detto Sembra proprio La statua Menzionata Da madama Tuido Ok Di vasi ce ne stanno E so pure Una marea Non devo capire Che ce devo fare Con questi vasi E soprattutto Devo rompere Penso di sì Perché Se Devo cercare Di trovare Tutti i vasi Reveglio Vabbè il marito Si poteva Bellamente Scassare anche lui Dai Non era così Se è così Non è che sia Complicato Non ha avuto modo E tempo Di Di scassare i vasi Che tra l'altro Hanno anche un disegno Come Bacchette incrociate Magari indica Semplicemente Scassare Scassare Penso che manchino Solo pochissimi vasi E va Piano piano Si noi Siamo partiti Per risolvere Delle missioni Per sfoltire Un pochino Come che avevamo Quasi finito Solo un altro vaso E qua casca L'asino Ah no Eccolo Invece abbiamo accettato Altre missioni Però ci sta Eh ci sta Ok Ecco fatto Devo raccontare A madama tweedle Cos'è accaduto E niente Ha aperto sulle mani Arena di combattimento E Che li raccontiamo Se non vediamo Che ci fa fare Attenzione Andiamo Quante altre cose Che possiamo lanciare Eventualmente Il lancio Il lanciabile E anche a tempo Si però È a tempo Cioè non In Discesa Ma semplicemente Quanto tempo Scusa Facciamo così Quanto tempo L'abbiamo L'abbiamo Almeno questi Che raccogliamo Ah no E qua Ho sbagliato Ok C'è mancato poco È ondata a due Però Tra l'altro Adesso ho usato Tutto 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 Eh no È impossibile Possibile Eh ricomincia Sfida Ma dall'inizio O dall'ultima No se è dall'inizio Usciamo Ah no No Esci Esci Non si può De far Non si può De far E Allora Ripiamo la scopa Andiamo ad avvisare La tipa Che C'è un'arena C'è un'arena Non fattibile C'è C'è Reveglio Non abbiamo più malva Quindi So riconoscere Una prova di merlino Eh sì Ma Purtroppo La malva Non c'è Signora Io ho fatto Ho preso anche un sacco Di botte Suo marito Aveva ragione La statua Era parte di un rompicapo Ah sì Che emozione Sì Ho dovuto distruggere Alcuni grossi vasi E questo Ha attivato Un incantesimo Sulla statua Meraviglioso Oh Quanto mi manca Avere al mio fianco Una persona intelligente E assetata di conoscenza Che faccia sta provando La mia curiosità È stata soddisfatta Ti ringrazio molto Chissà in cosa Mi imbatterò Nella prossima passeggiata Oh Mio marito Sarebbe felice Di sapere Che aveva ragione Su quella statua Allora 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 Quindi Quindi Arrivati a questo punto Direi che Invece di continuare Ad insinuarci qua Magari Completiamo Qualcosina Che abbiamo Allora C'era questa qua Vabbè Lo facciamo dopo C'è questo qua Che dobbiamo Semplicemente Finire Qui dobbiamo Andare ad avvisare Il tipo Che abbiamo Completato la cosa E qua Però mi vorrei Togliere Questo della magia Antica Mi dispiace Eh no Perché ne avevamo Raccolti due Ce ne mancava uno Non avevo capito Che erano tre E quindi Onestamente Sembra uscito Da un libro Di favole Me lo andrei Di fenestra Era acqua Ovest Reveglio Sì Eh Mi pare brutto Che ci lasciamo Sto Cagaturino Qua Un castello Deve essere stato Davvero imponente Ai suoi tempi Allora Non riesco Comunque A capire Dov'è Che sta Dai Una mano Eh la Madonna Dai Cazzo Ma Me li rimette Tutti Sì Mi Satisfa No Eh Uno Ce ne Mette Ok Ah Là sotto Eh vabbè Allora sei figlio di zoccola Scusa Quindi se non li prendi Tutti e tre insieme Non hai fatto niente E L'altro Mi dà un indizio Perché non lo vedo Minimamente Eccolo lì Ok Quindi vanno Vanno presi Per completare Il tutto Ok E Questo ci aveva detto Che avrebbero Migliorato E potenziato La nostra Potenza Quindi speriamo Che Effettivamente Possano Contro con il Fuggiasco Ok E Era 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 Lì sopra Va bene Me lo Me lo segna Me lo segna È una parola grossa Va bene C'era anche un Documento Da raccattare Eh Faremo un po' Di episodi Insomma Questo come detto È stato Un po' Esplorazione Estrema Ma Andava Fatto Andava Fatto Parti di ragno Sembra che qualcuno Collezionasse parti di Acromantula Per denaro È un'attività lucrativa Certo Se si è pronti A rischiare la vita Per procurarsi La merce Necessaria Evidentemente Sì Allora Infatti Il tipo C'è morto Insomma Signor Adli Ho recuperato L'orologio Da taschino Dal corpo Di Milo Per la barba Di Merlino Come hai È stato Complicato Lascia fare Non voglio Mai più pensare A quella Acromantula Manco io Con tutto Il cuore E Non è stata Una passeggiata Non mi merito Una ricompensa Per il disturbo Eh scuso Certo Mi fa piacere Ricompensarti Ma non ho molto Ho promesso Di provvedere Alla figlia di Milo Affinché in futuro Possa frequentare Hogwarts Vabbè Non credo Si renda conto Della fatica Che ho fatto Per recuperare Quello Eh Torniamo un po' Stronzi Signori Non avrei mai Dovuto nominare Quel cimelio Che egoista Mi piace Storcere soldi Eccoli Oh scusa Però È giusto Quel che è giusto Eh Signori Ho rischiato Pesantemente La vita Ah però Vedi ce lo giochiamo Come venditore O sbaglio Credo Di sì Credo Di sì Eh però Scusa E che sta Ma fa Arta perde Non ho capito Sembra un posticino Grazioso Sì però La gente È un po' Così Pensa che tu Lavori a gratis Eh A sto punto Va bene Allora Fatto Fatto questo Signori Abbiamo Diamo sempre Missioni Quindi Queste lezioni Animali Altre cose Vediamo dopo Ci dobbiamo Prendere Depulso Leviosa Che dobbiamo fare Una mandragora La dobbiamo usare Su più nemici Allo stesso tempo Che ci potrebbe pure stare Cioè basterebbe In realtà Andare A Hogwarts Nella Nostra Stanza Seguita Stanza Delle necessità E Almeno mettiamo Anche un pochino Di cose A macerare Signori O no Eh Guardate Di queste me ne devi fare Un quantitativo Impressionante Infatti mi sa che Dovo mettere Un'altra 18 tavoli Alchemici Perché se no Dopodiché Dopodiché Qua Iniziamo a raccogliere Malva Dragon Eh La malva Mi ci mette Anche il Fertilizzante Va più veloce Io non credo Comunque Ma la mandragola Proprio la lanciamo Così come se Non ci fossero Domani Mi sa di sì Ok Ci sta Qua in realtà Comberrebbe Anche farsi Delle pozioni Invisibilità Tuono Quelle ce l'avevano Chieste Stelo di Lunaria E lo dobbiamo Maxima Focalizzante Vabbè Facciamo un po' Pure di queste Nel mentre A questo punto Vado A prendermi Dal professor Sharp De pulso Credo sia questo Incare il professor Sharp De pulso Sì Eh almeno Signori Ci Ci sblocchiamo Qualche incantesimo In più Poi li mettiamo Eh da qualche parte Perché lo spazio È pure quello che è Però Se Ribello Giù Se Vediamo Un attimino Ah qua c'era Anche quest'altra Da aprire Non abbiamo trovato La chiave Eccola là Eh È da un po' Che non torniamo Qui a scuola Effettivamente Siamo fatti La manicata De giri Ma Reveglio Ok Perfetto Gettone della casa Non so quanti altri Ce ne mancano Penso ancora un pochino Abbiamo raccattati Un po' Ma Ce ne sono ancora Pari Ah è pure questa Devo aprire Ancora Allora Fammi vedere 17 Quella vale 9 Quindi 6 Eh però Scusa Questa è da uno L'altra Donde sta Quella Possibile Sì Possibile Allora Dicevamo Quella 17 Quindi questo qua È un 9 E quell'altro è 1 2 3 4 5 Sì Quindi linea teorica Questa dovrebbe essere Eh Mi sono segnato il numero Ma non mi sono segnata La cosa Ok Il Il cavallo Il cavallo Bravissimo Oh Dai dai Che c'è il fisico Ole Quell'altra invece Abbiamo 21 11 10 Meno 8 8 Sarebbe Il ragno Abbiamo sbagliato Scusa Abbiamo questa che dovrebbe valere 9 7 9 8 1 2 3 4 5 Ah 3 Ho sbagliato No no È il Questo qua Il terzo No è il secondo Avevo Visto male la figura Era Che cazzo di No Scusa Mannaggia la puttana Se la matematica non è un'opinione Abbiamo 17 17 Meno 9 8 Meno 1 2 3 4 5 3 1 2 Eh Aspetta Ah Adesso Mi perdevo le figure In un Un problema di figure Signori Diciamo che il dorato sulle figure Non sta bene Il tutto per sbloccare Della roba che Non ci serve Scalinata in macerie Onesto Utilissimo Vabbè Eh Mi perdevo Ogni tanto Mi impasto Con Cazzo di figure Professore Per piacere Puoi far passare Il tempo Accedendo alla mappa E premendo R3 Ok Oppure Posso anche fare Mi posso fare Scegliamo la mappa R3 Aspettiamo un po' Vabbè Il tempo per queste cose Non passa Però Possiamo fare La lezione Beh Certo è un peccato Che se fai passare Il tempo Certo giustamente Quello Il gioco Basato sul fatto Che tu Non è che puoi Schippare In modo abusivissimo Il tutto Però Allora 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 Da qua Va bene Come sta andando Con i compiti Assegnati Tutto a posto Credo Tutto a posto Ma non ne siamo sicurissimi Ho completato i suoi incarichi Professore Bene Ora sei pronto Per apprendere De pulso Vediamo cosa riesci a fare Concentrati Non lasciare Che la mente vai Ora sai come fare Ok Se vuoi fare pratica E credo proprio che dovresti Non andare a scaraventare I tuoi compagni In giro per i corridoi Prova piuttosto Con i libri incantati Che trovi qui Ok Allora Mettiamola Eh qua Per il momento Respinge con forza Considerevole Molti tipi di oggetti E nemici Sebbene non infligga Danni diretti Nemici oggetti Possono essere lanciati Gli uni contro gli altri Con effetti devastanti Guarda Forse in realtà Converrebbe metterlo Comunque qua Al posto Magari di Questo Dai Mettiamo qua Poi dobbiamo Comprare altre cose Ok Vedo che non te mordi Bene Ripetere E apprendere Vabbè Ci è utile Ci è utile Comunque Raccogliamo la pozione E se potemo Da Quindi questa missione È fatta Andiamoci a prendere Pure l'altro Incantesimo Signorina Kogawa Che si trova Qui Quindi ci Trasportiamo Trasportiamo a Trasportiamoci qua E vediamo Vediamo un pochinino Vediamo un pochinino Dobbiamo Scusa un attimo Mi sa che qua Signori conviene Andare a sbloccare Già quest'altro Non abbiamo slot Come è andata con quegli Incarichi Tutto bene Fatto tutto Madama Kogawa Ho completato Tutti gli incarichi Assegnati Molto bene Immagino che nel corso Di quanto fatto Tu abbia acquisito Confidenza con la scopa A voi Sì professoressa Mi fa piacere Saperlo Continua così E forse un giorno Terrai un posto Nella squadra Di Quindic Se mai Black Lo ristabilirà Beh Visto che i compiti Sono stati eseguiti Iniziamo Glacius Presta attenzione A come muovi La bacchetta Va bene Va bene Sto è più complicato E attenzione Montagne russe Ben fatto Ti consiglio Di esercitarti Con il nuovo Incantesimo E qui nel mio ufficio Prima di provare A usarlo Nel mondo esterno Ok Altro figo Anche come detto I quadri Alcuni Questi qua Quelli del Quindic Cara Madama Kogawa Il fatto che entrerà A far parte Del corpo docente Di Hogwarts In qualità Di nuove struttrici Di volo È una notizia Magnifica Prevedo che la nostra Collaborazione Sarà meno movimentata Rispetto al periodo Trascorso insieme Al porto di Yokohama Anche se non si può Mai dire Attendo con ansia Di rivederla Qualora nel frattempo Avesse qualche domanda Da pormi Non esiti a mandarmi Un gufo Cordialmente Matilda Weasley Lavorato in precedenza Insieme Comunque 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 Andiamo a vedere Questa dove Possiamo Piazza Qua Allora Qua abbiamo Queste qua Allora Questa che cosa È manco Mi ricordo Ah per cambiare Lo stile Ma che cazzo L'abbiamo messo A fa qua Magari La mettiamo Qua Ah no Qua già c'era Quindi qua Si potrebbe Anche togliere Scusa Sono due Tre Ah no Quelli solo tre Ne abbiamo Va bene Questa la mettiamo Magari Qui Insieme A Quell'altro Facciamo così E ci metto pure Questo qua Eh magari Facciamo Te le tiene Comunque Anche Ok Vabbè Ci sta Quindi Eh certo Che si ricaricano Molto lentamente Vabbè Vabbè Professore Io ho fatto Quindi Direi che Sedamo Ci può stare Qualcos'altro Nel breve Che possiamo Spippolare Questo Dobbiamo Parlare L'acqua Dobbiamo Usare La Mandragora Qua Lancia Depulso Su un nemico In Levitazione Allora Allora Quindi Levitazione Depulso E Mandragora Si potrebbero Fare In combo Quindi a sto Punto Potrei Anche Andare Un attimino Giusto Per Per Gigioneggiare Signori Non è che Però tipo Si può Andare Da qua Andiamo Poi qua Quelli che Incontriamo Attacchiamo Sempre se Ne incontriamo A gruppetti Spero di Si Certo Buttiamo Una Mandragora Così Però Che dobbiamo Fa Almeno Ci No Lascia Per Ah tra L'altro Il tipo Che stava Qua Vi ricordate Quello Che poi Aveva Perso Tutto Sono tornati I quadri E le cose Non era Lui Ma era Quello Lì Che non C'è Più Tra L'altro A Meno Che Aperte il negozio C'è dato Ci ha fregato Vabbè Un attimino Fatemi controllare Anche il buon uomo Salve Signor Semi Che posso fare Per te Che cosa c'è In vendita Già ci avevano parlato Con questo Con cosa posso Aiutarti Oggi Beh con niente Di la merda Guarda Giusto perché Non fanno mai male Questa Sta avendo Questo pure Questo pure Questo pure Questo anche Questo si Sono soldi eh Ah dovevo anche analizzare Quelle altre cose Mi sono dimenticato Sei tu che hai messo in fuga Quei goblin Vero Allora signori Un gruppo Di nemici Penso che possa intendere Anche questi qua Quindi io vado Con la mandragora Ha funzionato Ma andrà Qua Devo Precaverosa Punto Eh aspetta Perché mo qua Devo fare Eh Che rottura di No Va bene Ma non credo Di aver Di essere riuscito Neanche ad utilizzare La mandragora Su più nemici O sbaglio Che rottura Di coglione Abbiamo pagata Pure una madonna Dimmi No Ottieni Usa una mandragola Più nemici Allo stesso tempo Che cazzo Devo fare Non ho capito Mi sembrava Di averla usata Su più nemici Non si usa così Non lo so Vabbè comunque Sti cazzi Non la ricomprerò E quello Non lo sblocchiamo Per il momento Mentre qua Dobbiamo usare Allora Così E depulso E questo L'abbiamo fatto E questo Va bene Qua che roba Sono pochi Maghi e le streghe Che fanno Correttamente Risalire La storia Dei labirinti Scozzesi Alla loro legittima origine Un mago scuro Del quindicesimo secolo Noto come Eunon Black Baston Nato Eunon Baston Da un ramo Non magico Della famiglia Baston Eunon non era Capito dai genitori Babani E nel tentativo Di adattarsi Cerco conforto Nell'attività di famiglia La potatura Delle siepi Pare riuscisse A controllare I cespugli Di prugnolo Con la mente Creando con facilità Splendide opere Ciò stupiva E faceva Parimenti Infuriare La sua Intollerante famiglia Il loro risentimento Non potè peggiorare Con l'invito A Hogwarts Del giovane Eunon Dove venne Assegnato Alla casa Di Tassorosso Fu ad Hogwarts Che Eunon Conobbe Artemisia Black Rinnegata Dalla famiglia Black Per la relazione Della madre Con il padre Babano Il rapporto Della mezzosangue Artemisia Con la purezza Del sangue Non era Dei più semplici Si considerava Degna del nome Da ragazza Della madre E incolpava il padre Per il suo Ostracismo Allo stesso tempo Però non accusava Baston Per aver avuto Genitori babani Considerando piuttosto Una riluttante Vittima innocente Dell'impurità babana Completa gli incarichi Che ti ho assegnato Poi raggiungimi Nella mia classe Ti insegnerò Difindo Incantesimo Tagliozzante Solitamente viene usato Per tagliare gli oggetti Ma può rivelarsi Un'arma molto potente All'occorrenza Ok ma io Come posso fare Il No Eh probabilmente Qua lo dobbiamo usare Con questo Vabbè E Che altro volevamo fare Noi No niente Volevo Andare a Vedere un attimino La cosa Della mandragola Ma la mandragola E' andata veramente Non a buon fine Deve essere stato Abbandonato Molto Oh scusate Vieni qui Parassita Levativa il cazzo Con frigo Expegniarci Che succede Eh Nega Lo cazzo Ho rintronato Giovan Questo per carità Non fa male Però Se lo lancio Lontano Di certo Non gli fa bene Ah questo Non mi serve Allora Un attimo Che Era qua Questo No Di qua Di qua Di qua Ok Allora Ce ne sono Diversi Uno sta Qua dietro Eh Come cazzo Lo raggiungo Che succede Che succede Che succede Che succede Che succede Stupedito Depulso Con frigo Venga Ora gli animi Reveglio Un attimo C'è la scala Ma con la scopa Fiamo prima C'è un altro Qua E Ce n'è un altro Qui dietro Sembra Di si Ci si entra Da qua È la madonna Ingoronata Però le manovre Da Nello stretto Non sono fattibili Vatevi dei coglioni Dai Piacere Poi dite Perché andarci Con la scopa Perché è più sportiveggiante Eppure questa è fatta Ah vedi Che potevamo comunque Anche fare Come non puoi atterrare Dai Atterra Atterra Non atterra Vabbè scendi qua Fa come te pare Questo posto Ha visto giorni migliori Vabbè Signori Io direi che A questo punto Ci possiamo Anche salutare qui Con L'episodio quotidiano Che è durato Veramente tantissimo Oggi Oggi siamo andati Un po' per le lunghe Anche se probabilmente Vi avrò tagliato La parte dell'arena Perché è stata Una roba veramente Troppo lunga Poi non avendola completata Non avrebbe Niente senso Di Donna Non lo facciamo così Ma sì Questo cazzo Ora vedi Questi cazzo Di cagature Qua Ok Sì vabbè Poi dobbiamo Andarci a riprendere Un attimino Ad Hogwarts Qualche Incantesimo La mandragola Magari La Di fottino Che usa Una pozione Dell'invisibilità E quella di tuono Eh vabbè Questi rifacciamo Dopo dai Descendo Se può fa E Poi rifacciamo Pure quell'altra Va bene Ci andiamo Eventualmente A prendere Descendo Alla prossima E Come detto ragazzi Mi raccomando Come sempre Asciate like E condividete Per supportare Serie e canale Siate sportiveggianti Mi raccomando E Aula pozioni Non proprio vicino Nell'aula pozioni Se no La fa al volo Magari dopo Così alla prossima Lo facciamo Perché oggi siamo andati Veramente Un po' troppo Per le lunghe Va bene Dai ci vediamo Alla prossima Ragazzi Un saluto a tutti Da questa leale